Colpo di mercato importantissimo dell'Abruzium, Enrico Roji, sicuramente poche presentazioni per un calciatore che ha calcato palcoscenici superiori, ma con quanto entusiasmo hai accettato questa sfida? Buonasera a tutti, diciamo che l'anno scorso mi ha cercato presidente per questo progetto e quest'anno lui è arrivato prima, mi ha proposto questo progetto e ho visto che è un progetto importante, anche altre cose importanti che mi ha promesso. Ho detto che va bene. Questa squadra, visto che siete al quarto giorno, qualcuno già lo conosce, dobbiamo dire che è di buon livello? Per il campionato di prima categoria l'Abruzium può recitare un ruolo importante? Penso sì, penso sì. L'unica cosa è che caccia è strano. Non puoi dire che questo momento, che puoi vincere il campionato, non sai quello che può succedere andando avanti, ma ci credo che giocheremo fino alla fine. Certamente è importante avere i tifosi al seguito. Tu che hai giocato in piazze anche molto calde, quanto aspetti i tifosi rosso-blu sulle tribune? Perché questa è una squadra che riesce a suscitare sempre tanto interesse. Io penso che Brutum è una squadra che ha tanti tifosi, che sono anche tifosi di Cosenza, che sono tifosi caldo, tifosi che presentano sempre a campo. Penso che quest'anno venneranno a stare vicini alla squadra. Io mi chiedo sempre di vedere loro vicino alla squadra, che è importantissimo anche per vincere.